Il problema diventerebbe direi quasi culturale perché se dobbiamo governare l'innovazione, se dobbiamo governare la qualità, tutto questo deve partire dall'interno della stazione appaltante. Restare incentrato sul costo, sul meno costo è assolutamente sbagliato. Ecco allora, guardare la qualità attraverso un lavoro che deve fare la stazione appaltante, i tecnici, i clinici che devono fare, quindi coloro i quali sono deputati ad utilizzare il bene, ad utilizzare il servizio, ad incentivare, a stimolare il mercato a che produca innovazione vera, dando risposta a quelle che sono le domande, le esigenze di innovazione e di salute da parte del paziente e quindi del clinico. Guardando anche la soddisfazione alla sicurezza del clinico e del paziente. Ecco questo secondo me dovrebbe essere il ruolo che la pubblica amministrazione deve farsi in partnership con il mercato, perché non può essere l'uno distante dall'altro, assolutamente. I due debbano dialogare strettamente, molto strettamente. E' da dire naturalmente che tutto questo lo si fa e lo si può fare attraverso gli strumenti normativi che il codice ci dà e il codice ci permette di fare questo. Cito semplicemente anche in chiusura una cosa, una decisione del Consiglio di Stato che ha confermato una sentenza di Taro Lombardia dove ha giudicato una gara alla seconda ditta in graduatoria perché questa dava il risultato che la prima non dava. Ecco ha detto la pubblica amministrazione cerchi il risultato. La seconda ditta, sebbene abbia presentato un'offerta un po' più articolata, ma anche se un po' distante da quelle che erano il capitolato stesso, però dava il risultato che la prima non ti dava. Quindi anche la giurisprudenza si sta orientando in questo senso in linea con il codice degli appalti, perché il legislatore ci dice abbiate fiducia, perseguite il risultato, perseguite il valore. Grazie a tutti.